buongiorno a tutti salve spero che state passando una buona mattinata e che abbiate passato un'ottima serata un'ottima nottata scusate oggi finalmente parlerò di qualcosa di cui ho accennato molto tempo fa e che a cui sto lavorando e ho lavorato per molto tempo in pratica si è parlato di riapertura dell'ordine ammonio che fu chiuso molto tempo fa e quindi di un'operazione molto all'interno e come sempre avviene io ero positivo perché io voglio dare la conoscenza a chi merita al mondo a chi merita e a chi non ha la possibilità o non vuole mischiarsi con altre cose magari sentendosi chiamare chiamato dalla via monia penso che ve ne siete fatti un'idea abbastanza negli anni e gli anziani di cui senza tema di icone sono rimasti pochi di cui più giovane sono io come rappresentante interno esterno tenevano stretto il gioco diciamo così perché figli di un'idea ottocentesca tenete presente che gli anziani in pratica i loro maestri sono maestri ma erano maestri nati nel 1800 quindi no alla fine come spesso io sono come la goccia che continua a battere batteri 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 alla fine c'è stato un po di tempo fa una mezza promessa di aprire poi mi hanno fatto tornare indietro e cose varie alla fine adesso posso dire con certezza e lo voglio annunciare e poi spiegare il tutto piano piano che sono riuscito a muovere finalmente le cose come dovrebbero essere mostrando i tempi devo anche dire grazie alle mie previsioni direi astrologiche che avevo già fatto e avevo mostrato anche di dovere se ne guardate che dal 2021 2020 le cose si cominciano a complicare e guardate che è il tempo ma siccome come sempre si sa gli anziani hanno fiducia nel giovane però ce l'hanno sempre no dicono sempre si vediamo vediamo vedendo che questo con quest'ultima cosa che è successa e altre cose che ho pronosticato che succederanno ma che non vi posso dire ma ho detto a chi di dovere finalmente si è deciso l'apertura dell'ordine alla sia sezione italiana che sezioni internazionali chiaro che gli italiani si potranno iscrivere alla sezione italiana gli stranieri alla sezione internazionale per un semplice motivo quindi non si può essere iscritti alla sezione internazionale se si è italiani e viceversa perché perché la mente la forma mentis è diversa e così è sempre stato nell'ordine ammonio quindi questo è molto importante un attimo che mi scrivono e quindi quello appunto aspettando un pochino che arrivano un po di persone chi sarà interessato a questo sia coloro che con me hanno seguito i corsi precedentemente e quindi si trovano già molto avanti sia i nuovi potranno accedere facendo domanda beh ci sono chi ha già scritto quindi coloro non hanno più problemi ad accedere a la versione diciamo completa di quelli che sono gli insegnamenti della scienza ammonia verrà scritto scusate verrà scritto non c'erco ridente parlando mattina il caffè e la sezione esterna dell'ordine ammonio ha il nome di anticus ordo phoenix ossia l'ordine antico della fenicia non ha a che fare con harry potter come qualcuno ha scherzato inopportunamente ma esiste da almeno 450 anni e fu fatto questa cosa dopo la morte di giordano pro quindi anticus ordo phoenix foenix chi è interessato verrà messo il link può scrivere a anticus ordo phoenix chioccio da protonmail.com e quindi sarà aggiunto qui scritto per poter accedere possono accedere sia coloro che punto se lo desiderano hanno fatto con me delle le lezioni quindi entreranno già a gradini più avanzati naturalmente perché sono già stati addestrati all'inizio è chiaro questo cioè non si troveranno certamente al primo gradino mentre coloro che sono nuovi che mi conoscono da poco che conosco c'è mi conosco conosco la scienza non è da poco possono accedere iniziando dal primo gradino e quindi invece di perdere perdere diciamo di fare i corsi esterni è possibile farli direttamente tutti nell'ordine quindi chiunque viene e si iscrive farà parte dell'ordine con tanto di iscrizione tanto di tessera dell'ordine perché è stato sempre così tanto di certificato di attestato è tutto quello che chiaramente vedrà chi ne farà parte quindi si è si è tolta questa cosa perché i tempi sono quelli che sono anche perché far parte dell'anticus ordo fenix ossia la parte esterna dell'ordine ammonio però renderete conto se entrerete a farne parte se lo vorrete attra attenzione non c'è nessun legame particolare non c'è non è un legame mafioso non entra se gli piace fa quello che vede e poi sarà via cioè non è che se vuole andare via nessuno lega con documenti o contratti legali 0 assolutamente solamente si spera a che la persona sia d'onore i martinisti dicono che chi bussa deve deve essere un uomo di desiderio nel nord della moglie non si parla di questo si parla di uomo d'onore o donna d'onore perché puoi avere il desiderio che vuoi però desiderio può essere sviato ma l'onore all'onore e per te stesso quindi si apre questa cosa le porte sono aperte sono riuscito finalmente a fare ciò che dovevo fare sono riuscito ad aprire queste porte certo sotto l'occhio di chi però essendo nel responsabile avendo visto anche parte di scherzi so benissimo che sono guardato da queste persone scherziamo anche se si scherza non è che stiamo sotto la mia egida e quindi avendone i titoli dimostrabili quindi per coloro che volessero chiedermi aveva tutti i titoli ai per fare questo sono tutti i titoli sia massonici antiche non la massoneria che sta facendo tutto quello che c'è in giro adesso bensì quella spirituale quindi i gradi conseguiti i gradi conseguiti in diversi tipologie di ordini e quindi chiaramente anche quell'ammonio è normale innanzitutto e quindi la lo so che non servono a niente queste cose in oriente neanche servono da noi servono perché noi sono tanti talmente furboni che servono questi collegamenti per far vedere che ciò che ti sto dicendo non l'ho imparato ieri acquistando il libro di mra o il libro di picco pallino oppure leggendo libri da una parte o dall'altra ma è stato figlio di pratiche genuine l'altro giorno parlando con la sezione se vogliamo che sarà straniera mi diceva una persona americano che era colpito in senso buono da come spiegavo e io parlo mai inglese lo sto studiando per loro a 58 anni figurativi se ho voglia di imparare l'inglese non per l'inglese per carità di dio però lo faccio per la missione mi diceva che strano che è loro boros strano che tu riesca a spiegare concetti così complessi con il poco vocabolario che ha detto certo perché ero vissuti e vivono i giorni la mia esperienza quindi nell'ordine sezione italiana o internazionale saranno date le esperienze saranno date le conoscenze e quindi il tutto sarà assolutamente genuino e tradizionale e ogni cosa che si avrà sarà certificata e quindi non è una cosa che così cioè sto facendo quello rimane un corso no 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 qui non si parla più di ricorsi c'è tutto sarà inglobato viene inglobato all'interno di questo ci saranno certamente se eliminare i cosi esterni per interessati per chi non è interessato a questo ci saranno sempre i corsi più esterni e normali cioè che ne so è chiaro che non tutti no hanno il desiderio di aderire a una cosa simile a un ordine quindi ad avere questa capacità però di essere un pugno di esseri che ha deciso di combattere per se stessi si per la propria libertà ma anche per la libertà degli altri perché una volta che sia un pochino con un app no alla fine l'app 1 su una va per scaricarla faccio degli esempi ci penso compra questo ieri io ho comprato c'è un app per fare queste cose video cose varie per poter sistema no ne avevo scaricata e poi c'è scritto ok c'è alcune cose e poi c'era scarica la versione completa del 4 euro e quindi è una cosa simile c'è pratica la versione completa non è che viene dato viene data agli uomini d'onore e alle donne d'onore cioè le persone che veramente lo sento anni studio in taglia perché è stato un'onore per la visione di te grazie Auroboros grazie a tutti questo è un'onore per me e non preoccupare perché tomorrow i parlare di questo per l'internationale order e per voi se siete interessati in l'opera del order è possibile per voi entrare in l'international order of anticus or dell'anticus phoenix that is external order of the ammonian order ok quindi che cosa succede perfetto perfetto che succede che le porte sono aperte e potete cominciare a se siete interessati a capire di poter avere non le pistolette per sparare ma cose molto particolari che sono la visione della verità la pratica reale delle cose c'è una cosa e spiegarla all'esterno perché non è possibile è un pochino come quando non tu vai a comprare un libro di fisica o di ingegneria si lo studi e per tutti ma le vere tecniche e vere spiegazioni e tutto verranno date vengono dati di solito sempre quando fai la scuola di fisica quando fai la scuola di ingegneria per quanto tu ti possa comprare un manuale attenzione che è d'ordine ammonio è la base lo sfondo di tutti gli ordini attualmente esistenti so benissimo qualcuno mi ha detto ma maestro sei sicuro che poi non si è attaccato vabbè ma attaccano ma non sto dicendo nulla pratica sto dicendo che la conoscenza che viene che viene data oggi dai vari dalle varie tipologie di ordini che ne sono vecchi o meno vecchi deriva direttamente dalla dalla scienza monia che la scienza tradizionale o ars perennis scienza perennis che è molto che che è legata con con giustamente con ciò che diceva che non ciò che dicevano come la suami oppure altri grandi si orienti in occidente platone protina o pitagora aristotele marici oggi vive canandra prima tutta questa gente che fa parte dello zoccolo duro della trasmissione della conoscenza nel mondo che io mi pregio di non rappresentare per carità però mi pregio di poter dare a voi non con interpretazione bensì con il genuino insegnamento guardate che se avrete veramente la curiosità vedete che l'insegnamento dato nei corsi è sempre preparatorio perché perché non si può si dice scandalizzare anime giovani nel senso di scandalizzare non perché ci sono cose da scandalizzare ma semplicemente un termine per dire non puoi non traumatizzare la conoscenza la coscienza di una persona dicendogli la verità se non è pronta per la verità gli ordini ma quello per questo motivo per raccogliere un certo gruppo di persone che erano adatte ad un certo tipo di verità il problema è che ognuno è specializzato in un certo tipo di verità cioè se entri nell'ordine rosacruciano c'è un tipo di verità che viene dato in una certa maniera se entri nell'ordine della golden donato di che tipo di quello ma un altro tipologia se entri nell'ordine che ne so pitagore a onde della rosa croce pitagore a un'altra tipologia se entri nella che ne so la fratellanza di miriamma tipologia sentine tutte tipologie diverse non la fraternità saturni alcuni alcuni entrano in ordini arabi alla fine sono tante tipologie per le conoscenze singole delle persone perché si è deciso di aprirlo perché la scienza monia è globale io quello che ho detto poi è che sono stato ascoltato diciamo è stata l'ultima parola che poi è vero che perché so che sono ascoltato da da chi ha detto ok ho detto ma oggi siamo in una società globale si sta combattendo per le cose globali quindi la conoscenza che noi che noi abbiamo e globale cioè ripeto noi siamo lo sfondo e come se noi fossimo la terra e tanti sei sono caduti a sé di tante diverse tipologie beh chi mi conosce penso che può testimoniare che sono stato addestrato a parlare di qualsiasi cosa che è lo scibile della conoscenza occulta lo posso insegnare trasmettere fatto apposta questa cosa qua altra cosa ho detto se no se non lo avrà adesso finale che c'è 58 anni poi diventa più vecchio lo già non ho le energie di sette anni fa di quando ho cominciato se aspettate un altro po addio quindi ebbe a parte tutte queste cose qua e quindi noi siamo una terra dove sono caduti vari semi che sono pezzi di conoscenza a secondo il colorimento o la coloritura mentale dei popoli la scienza monia è l'assoluto sfondo di base da cui nascono poi tutte le varie diversificazioni quindi nella nell'ordine che nell'ordine chiamato esterno ma fino a un certo punto perché se ne renderà conto chi 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 ha chi aderirà nell'antico sport phoenix in pratica che ripeto l'ordine stendo l'entrata ma già un'entrata a livelli in pratica è come se fosse già una specie di master no perché si parlerà in maniera molto chiara ma anche per coloro che iniziano molto semplice perché ci sono i programmi fatti apposto per la mente semplice che c'è che deve maturare nella conoscenza occulta che all'inizio che ha bussato che non sa che ha delle esperienze deve capirle deve gestirle per chi ha la famiglia perché non la famiglia chi vuol fare non un'area più veloce essendo solo chi vuol fare una via ha tra l'altro la cosa buona della scienza monia è stata sempre che stia implementata con la vita di tutti i giorni ne sono un esempio c'è non c'è bisogno di farsi le lele chiuse in casa e a pane acqua voglio dire magari ci può essere un periodo di pratica più intensa se uno lo desidera o se prescritto dal grado e quindi uno può scegliere però rifarlo di ripristinarlo di farlo più in là o di rimandarlo cioè c'è questa possibilità dipende sempre dalla capacità della persona che è sempre osservata quindi oggi c'è questa necessità di generare vera conoscenza basta parlare di 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 cose sono esterne oggi abbiamo di tutto nell'esterno baci basta aprire uno smartphone ovunque siamo per avere il mondo in mano ma il mondo esterno però e non vi illudete che le conoscenze occulte per avere della specialmente della scienza occidentale siano descritte nei libri o nei non ci sono te lo può dare soltanto uno che l'ha già fatto uno che già l'ha provato altrimenti non avrai nemmeno la c'è uno ciò che va bene ma un libro uguale a un maestro mi diceva una è un po differente perché un libro legge sai se è vero non è vero ne lo sai ci credo non ci credo una persona che invece riguarda l'ho fatto io te lo dimostro è diverso e come sempre andare a questa benedetta scuola di fisica o di ingegneria è una cosa leggere il bignami dell'ingegneria di se fai così 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 è una cosa trovarsi in un laboratorio di ingegneria o di fisica e qui il professore ti fa fare delle cose e lui ti fa vedere come si fa in questa trattata è una via accelerativa c'è unice perché ci sono queste cose quali o per accelerare la nascita o la rinascita delle persone ma alla fine qual è il fine beh tutti hanno paura di morire tutti vogliono sapere cosa è la morte cosa c'è dopo la morte tutti vogliono la felicità e la tranquillità tutti vogliono la pace oppure il conoscere se stessi a livello di potere tutti vogliono l'amore ma per esempio tutti lo vivono soltanto dal primo gradino ma ce ne sono tre me tutto questo viene insegnato e senza tabù e senza nascondimenti senza segreti se sei dentro sei dentro e oggi il tempo il periodo oggi il periodo come fu il periodo durante la rivoluzione francese anche lì si aprì nuovamente agli uomini e donne di buona volontà purtroppo molto agli uomini di buona volontà all'epoca ma io sono sempre stato un combattente e combattente fiero fierissimo della parità dei sessi tanto che ricordo che feci degli scontri in una scuola nell'ordine di napoli per chi voleva ammettere le donne credono dove non ci servono no e quindi mi è uscito sono uscito è assurdo le donne hanno un altro un'altra mentalità appunto si insegna diversamente ma non in maniera no e quindi e che cosa succede in ogni tempo c'è stato quando c'è stato un rivolgimento storico le porte sono sempre aperte per coloro che dicono ma che cosa sta succedendo qua ma è veramente questa è l'unica realtà ma veramente io devo essere sottoposto a questa gente a queste persone ma che è vero tra l'altro immaginate che voi veramente potreste vedere che poteste vedere la verità ma veramente incontrovertibile come si dice in alchimiano l'alchimista imparerà a fare oro che incontrovertibile significa che vedrà la realtà incontrovertibile che è quella la verità bene un ordine fatto bene da questo tra l'altro si chiama fenice proprio perché perché vi fa rinascere e perché dire e di rinascere beh che dire le prime idee dell'ordine stesso giantiche che posso benissimo che poi chi chi desidererà potrà vedere se stesso è uno pensate pensate il primo gradino e uno far riconoscere le proprie incarnazioni precedenti dell'uomo storico 2 fargliele vedere 3 insegnare a colui che entra c'è quindi all'inizio come prepararsene per il ritorno perché perché tutti sono a livello del genere noi ci riempiamo gli occhi dei maestri massimi noce ma quello arrivato ci sono tanti tanti gradini quindi non tutti possono arrivare assolutamente a messaggi così c'è messaggio a a livelli così alti di conoscenza i messaggi anche di conoscenza ma magari serve una cosa graduale e quindi che succede e ci succede che questo è solo i primi gradini devono portare a capire questo perché capendo questo comincia a togliere la paura della morte che per tutti non è vero perché il corpo fisico ha paura punto lecce anche se tu dici neppi tu sei dentro dentro le cellule tremano quindi come si fa bene in periodi come questi devono di solito sempre pensato che la donna è superiore all'uomo ho avuto tre donne in casa e molto tempo nessuno è superiore a nessuno siamo uguali il problema e non si deve ripetere ciò che è successo prima che l'uomo pensava di essere superiore e quindi metteva sotto la donna ora giustamente la donna si divagino noi siamo superiore la bilancia non va affatto siamo due fattori della divinità senza di noi maschi e femmine limitano c'è quindi è superiore don in alcuni fattori l'uomo è superiore in altri fattori ma sono uguali diritti doveri intelligenza capacità sentimenti emozioni c'è chi ce l'ha di più c'è chi della libera ma li deriva dalla carta di presenza pensate che nella scienza monia non si chiama carta astrologica perché può dare via come imparerete si è carta di presenza presenza e presenza di coccotti che cos'è sta presenza bene ne parleremo di questa presenza ma ve lo dice già il termine carta di presenza cioè che si presente ok perché l'uomo c'è dentro di sé una donna la donna ha dentro di sé un uomo maschio e femmina bisogna soltanto capire quali sono le e di fatto per questo che si va a cercare una certa tipologia di donna o un uomo ma questo vale anche per coloro che non sono eteriosessuali non per niente io e con questo mi sono scontrato ho sempre accettato tutti tutti di ogni orientamento non c'è preclusione se sei lo sfondo se sei la terra fertile possono cadere tutti i semi perché tutti i semi vengono dall'uno come posso discriminare qualsiasi cosa ma anche uno scarafaggio come poi gli hanno uno scarafaggio fa schifo ma perché ne scrivo anche lì c'è l'essenza assoluta no perché mi dicevano visto l'altro giorno uno qui c'è uno scarafaggio no no dico fermo stop 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 e mi stavo pure arrabbiando preso un pezzo di cartone l'ho diretto e l'ho fatto scendere nelle sue no nelle sue le sue stanze diciamo così sotto nel è sceso nel il tombino quindi oggi io ho visto delle cose assurde come mai l'ordine esce durante periodo di guerra perché la gente una paura perché la gente deve capire che non esiste sottoline siamo più chiari se tutto va bene se nel senso per il corpo fisico se c'hai pane se c'hai viaggi se c'hai ed è scientifica affinché l'uomo dice ma può darsi che muoio dopodomani che butto una bomba ma sarà vero ma io cosa sono ma chi sono io ma di cosa sono fatto ma veramente morirò ma veramente tutto questo che vedo ma veramente nasce scontentezza e paura e siccome chi fa le guerre genera paura per dominare gli altri viene fuori chi ne sa di più di queste persone a dire guardate aspetta chi ci crede a questo ok ma guarda che c'è guardate che c'è anche questa conoscenza che vi toglie la paura pochi anni fa lei mi ha dato una pratica nel giro di tre giorni ha prodotto effetti incredibili ma quando è arrivato il momento di saltare ho avuto una paura corpo e si certo ha detto prima immaginate se voi aveste la capacità reale di generare il pensiero giusto l'azione giusta l'immagine giusto e questo viene insegnato nei gradini poi viene di quello da fare in morte o precedente alla morte no senza botte non si capisce figurati se a chi sta facendo festa penso una cosa ieri ho visto che c'era un una manifestazione no in italia a milano per i diritti delle famiglie omosessuali a c'è bisogno di fare questo ma perché non vengono dall 1 anche quelli dove vengono dal 2 da 3 da 4 attenzione se siete divisione molto stretta perché la vita si manifesta ovunque non è che uno non è questione politica la vita si manifesta ovunque dunque non è che dice quella persona siccome a quell'orientamento non è vivo perché non è abitato dal principio unico ok attenzione che non dico attenzione il volemose bene state attenti non è volemose bene tutti l'anno e capire con l'intelligenza che esistono infiniti semi come disse anche giordano bruno infiniti mondi infiniti esseri e chi dice che tutti devono essere come il corpo fisico umano o con gli orientamenti umani quindi ecco lo sfondo lo sfondo di tutto e purtroppo nel periodo di crisi bisogna parlarne perché finisce la cuccagna perché non puoi viaggiare più dove sono io per esempio attualmente sono stati bloccati che 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 senso a e che che colpa ne hanno no i turisti russi che magari che sono non sono nel russo né ucraino né io vedo l'uomo io sono un osservatore io vedo l'uomo e la donna mi dispiace solo per loro di tutte le cazzate poche fanno gli altri purtroppo è così sono bloccati più di 7500 senza carte e senza soldi perché ma per quale motivo quindi ecco che nella scienza monia si dice volete fare la guerra sì allora viene immediatamente dice chi ne vuol fare la guerra tu benissimo chi vuol seguire lui loro benissimo e tu vuoi fare così quanti sono 3.000 di 4.000 di qua fate la guerra gli altri vantati loro questo è lo campo uccidetevi ha veramente messi questo veniva era anche il modo di regolare i conti nell'ordine tempo fa ho letto nei documenti figurati mica documenti se c'era uno scontro chi è proprio conto benissimo prego ma non rompete le palle a noi che noi siamo uomini di pace ma più che altro di conoscenza di sapienza non possiamo perdere tempo queste cose hanno impedito le gare di bellezza ai gatti rubani ma poveri gatti ma poveracci ma state capendo l'assoluta stupidità dell'essere bene perché maestro appaiono durante questi problemi perché vengono la conoscenza proprio per questo impedire le gare di bellezza ai gatti rusi l'avevo letto tra l'altro c'è tenere prigionieri in un'isola perché non li funzionano le carte delle persone che non c'entrano niente ma quelli parteggiano per intanto madre a casa ma che senso ha che senso ha uccide gli animali per mangiarli come visto della scienza ammonia allora questa qui è una cosa un po particolare esiste nella bocca umana una cosa molto importante ammedeo e questo qui dovresti io so benissimo che non tutti accettano sta cosa ma tu osserva i tuoi denti guardate lo specchio cos'hai nei denti c'è nella bocca ai 1 i canini 2 i molari i premolari gli incisivi e i medici perché se tu servi la natura la natura ti dice cosa devi mangiare e cosa non devi mangiare e dico sempre ricordatevi che gli antichi dicevano per chi lo volesse quattro volte al mese c'è la domenica carne questa è la prima cosa 1 vedere se stesso come conformato per capire di cosa si deve nutrire non puoi dare la carne le mucche non puoi dare l'erba a ai e come si chiama alle belle belle tigri l'uomo è un nivoro guarda caso c'è tutti i denti di tutta la la classe animale come mai perché nella punta e quindi secondo motivo gli antichi sapevano che l'animale in sé per sé non può evolversi non sapendo di essere non lo sa ha solo la paura per scappare fare non avendo la la conoscenza di essere e cosa succede si diceva io riporto ciò che viene insegnato che il cibarsi nella necessità e con i rituali opportuni e solo animali di una certa età non certamente l'agnellino che ci hanno abituato altre tipologie perché anticamente veniva mangiato solo l'animale che era anziano e che veniva fatto con con particolari e rituali a sorgere nel corpo umano che sa di essere come una specie di eucaristia per poter evolvere altrimenti le piante i minerali e gli animali non possono evolvere perché non hanno la coscienza di essere rimangono lì ma ma no ma io sono un sostenitore si fa e fai quello che vuoi inoltre in alcuni lavori c'è la necessità di proteine potente che animali o vegetali nelle scienze antiche e nelle scuole antiche non c'è mai stato il vegetarianesimo il vegetarianesimo è nato da una particolarità di conoscenza sia filosofica da socrates e platoni e cose varie sia orientali e per alcune cose cioè se io ho bisogno di sviluppare colpo lunare devo essere vegetariani devo cioè mangiare solo vegetali perché vegetali sono legati al corpo animale e al corpo lunare se devo fare un'altra tipologia di azione mettevano proteine e quindi li posso prendere da dove voglio se ne sono libero ma qui si parla di una persona libera e che ha visto assolutamente la verità delle cose nella scienza monia e nella vera conoscenza non c'è moralità poi dice quando dice forse quando lei è possibile coniugare una pratica di entrare con la scienza monia no se tu fai buddismo continua a fare buddismo no io insegno una tradizione occidentale sono stato un mandato per questo rispetto al massimo il buddismo fai buddismo al cento per cento certo rispetto se hai questa conformazione animica farlo capito o qualsiasi cosa il metro che richiede la possibilità nell'ordine cominciare bisogna scrivere alla all'indirizzo anticus ordo fennix che ho c'era pronto mai punto com che viene messo qui ho già messo prima viene rimesso eccola quindi la questione di uccidere gli animali per mangiarli come ho visto dalla scienza monia guarda che anche tu sarai mangiato uccidere gli animali no non è vista bene pratica noi i macelli non li vogliamo non ci interessano i macelli non ci interessa che ci siano le uccisioni di mucche di capre di cose varie così indebitamente non ce ne frega niente che sarebbe chiuso per noi ma semplicemente quello che ho detto animali che sono alla fine della vita che sono stati trattati bene e che sono ritualizzati e per dare la possibilità mediante l'assimilazione alla razza umana che sa di essere e quindi ha la coscienza di poter giungere alla con alla conoscenza e poter salire chi conosce bene di magia sa questa cosa semplicemente mentre c'è una malinterpretazione cos'è il conflitto la guerra guerra può essere anche leggere un libro per imparare insomma fa guerra si il problema ci ha e l'ignoranza dell'essere umano ignoranza attenzione non ignoranza in senso cattivo anche il vegetarianesimo tra l'altro che pensate che il primo libro che io ho editato e ho lavorato era di capitini sul vegetarianesimo quindi io c'è attenzione però osservate la vostra bocca è molto importante questo se non ci fossero lì quei denti vorrebbe dire altro poi nel libro assolutamente cioè non è che nel momento nell'ordine maggiore forza gano a mangi ma chi se ne frega non vuoi poi dipende proteine di dei ceci dei fagioli ma ci sono pratiche che servono proteine e che non devi volare per esempio nel mondo moderno lo diceva già anche a più se non diceva nel mondo moderno in 800 non non è possibile un abititazione godine chiamata che sia solo vegetale se abiti in città lo puoi fare se abiti in campagna e qui un altro piccolo passettino quindi questo è che volevo dire di si apre la capacità la possibilità di avere tanta conoscenza e conoscenza per voi tanta conoscenza che di solito è tenuta da parte perché la gente non è interessata ce n'è che già l'avete nascosta non è interessata la gente si interessa quando sta per morire ha scritto qualcosa un attimo altra persona che avevo letto volevo rispondere però forse mi è sfuggito forse vi ho visto una non so l'ho letto avevo letto qualcosa di mara ma non ho avuto il tempo di eccola qualsiasi mia domanda c'è stata la tua risposta precisa e sostiva completa e comprensivo ti ringrazio non volevo leggere diana valente grazie mese per sua crescenza perfettamente ragioni io sono una strega praticante conosco molto bene la magia e perfettamente il concetto sono contento di questa cosa purtroppo il problema è che ci si deve scontrare con ciò che george harrison e compagnia negli anni sessanta portarono in un accidente la filosofia orientale ma la filosofia orientale e per loro lo yoga stesso per esempio dello yoga stesso non si fa devi entrare in samadhi per essere libero ma non è vero ma quando mai già il fatto stesso che si stanno alcuni tipi di samadhi e ne mancano ancora tre ma in occidente anche lo yoga stesso che sono trasformate attenzione perché ci vuole un maestro per dirvi le cose non i libri scritti copia e incolla che noi leggiamo ci sono delle pratiche dove non si può mangiare carne per esempio per almeno tre giorni a digiunare oppure solo pane a ma certo ma certo che diventa le pratiche perché dipende cosa dobbiamo fare se una persona sono sincero è preso dalla moralità o da questi due bisogni deve stare a casa deve seguire le sue idee deve fare quello che sente può mangiare carne non può mangiare carne può mangiare fagioli può mangiare la torta quello che vuole ma non deve confondere le sue idee o idee buone o cattive con la via della magia e della magia un'altra storia se devi andare oltre la legge dell'universo tu devi ed essere oltre a legge dell'universo cioè devi vederla però non significa essere contro la legge umana e fare delle cose delinquente significa semplicemente essere uno che capisce come funziona è come dire doveva andare con la macchina ci mettiamo l'acqua non funziona gli aerei stessi hanno bisogno di un certo tipo di carburante che non è lo stesso di quello che metti alla macchina diesel non è lo stesso di quello che metti alla macchina benzina se noi confondiamo la moralità con le leggi che ci sono intorno ci scopri tutto in faccia perché ogni cosa ha bisogno di esocarburante se io devo fare una pratica particolare per sviluppare il corpo mercuriale ho bisogno di proteine perché il corpo mercuriale in movimento è l'unico movimento e negli esseri ma mi posso mangiare la persona umana posso al limite mangiare me stesso e ripeto a livello di tecnica e penso che qui c'è una persona pure che ha fatto parte di un ordine particolare in cui c'era questa spiegazione cioè la sorgere le forme inferiori a una forma superiore come sacrificio e quindi dargli la possibilità di elevarsi poi bisogna specificare bisogna specificare qualche informazione nella media di non basta nessuno può scrivere semplicemente che hai sentito me oggi oggi 9 marzo e quindi fare appunto che vuoi fare richiesta ripeto chi ha già fatto i corsi deve specificare che corsi ha fatto fatto questi cose bravo ho fatto questi corsi così chi ha fatto già delle cose preliminari non viene posto all'inizio viene posto a un gradino oltre vengono fatte fare cose che non ha fatto sennò va a rifare stesse a meno che non ne senti il bisogno ok ecco mamuele sì infatti mentre può spiegare quanti percorsi sono all'interno di stede uno uno può fare ci sono tanti corsi io disse una cosa arturo quello che voi state osservando adesso che sono tanti corsi è un solo percorso solo che viene spezzettato per le varie menti che devono accoglierlo perché non sono addestrate no e tutte queste sono solitamente quello che fa soltanto una persona nell'ordine tutte percorse 1 1 della scienza monia sa fare la magia sa fare il misticismo sa fare yoga sa fare la meditazione sa fare l'entrata nei mondi sottili sa farne riuscita sa fa tutto conosce tutto quello che deve conoscere di ogni tecnica per esempio una per esempio la prima cosa che viene insegnata solitamente la geomancia al primo grado ma non la geomancia di vedere il futuro quella è quella più esterna la vera geomancia che è un'astrologia terrestre che significa astrologia terrestre scusa un'altra domanda riguarda la respira né si cosa pensa sempre buono no che perdono ma ci mancherebbe il respira nesimo se è fatto bene si se non tra veleni fallo in alta montagna però il respira nesimo fa parte c'è entra da quando è venuto a in essere lo psicologo graf con l'oloterapia quindi la respirazione ore bairti riberti è un po una modernità presa dal pranayama che non è che c'è qualcosa di nuovo nella scienza monia esistono esiste la scienza delle respirazioni che era conosciuta anche dagli egizi e sono 44 respirazioni o tipologie dire non è che soltanto orientale quindi si si è fatta bene solo che è pericolosa se non è seguita bene e io ti dico sinceramente da ragazzo ho sofferto di asma di asma allergica non c'è in particolare veniva primavera e io per mesi non potevo fare niente perché la sola idea di respirare andavo in paranoia scherzi quindi bisogna stare molto attenti e molto attenti e poi ritmi ricordiamoci che il respiro ha la capacità di andare a trasformare tante cose tanto è vero che io vedo molto facilmente che il movimento di questo psicologo genera persone che insegnano l'oloterapia c'è il respirare molto fortemente e poi ci sono queste specie di reazioni in oggi ok stai a posto quando hai una reazione molto forte il corpo comincia a essere quasi non come si fa come viene detto anche nello yoga il corpo comincia a saltare con una rana che va in una specie di tetania tetania da respiro state molto attenti molto il respiro quindi comunque per finire questa domanda che è una bella domanda perché potete fare tutte le domande che volete io non solo chiesto educazione gentilezza parliamo di tutto potete anche non essere d'accordo in parte che siamo educati poi possiamo parlare pure maestro ma lei ha detto una cazzata non c'è un problema vediamo dov'è educazione e quindi c'è l'educazione per carità il respiro viene usato anche dipende anche che tipo di opera devo fare se devo fare un'operazione che dipende che teoricamente viene chiamata magari planetaria diciamo così ma ma vedere qualcosa di più specifico poi nell'ordine stesso allora io ho bisogno di certi respiri che possano generare certi cicli affinché il mio corpo che è solitamente respira alla cavolo cioè se voi vi osservate giornalmente nel vostro respiro un po respirate un po un po e varie cose ecco se dare quando fate veramente qualcosa di serio non potete respirare così dovete avere un ritmo un ciclo ben preciso che possa portare a delle riuscite particolari altrimenti non funziona se io e tra l'altro il respiro mette le onde cerebrali in determinate particolarità perché si fa il pranayama perché si fa si pensano perché entra il prana nessuno ha mai visto il prana oppure si l'abbiamo visto con le fotografie chiede ma in realtà quel ritmo quel ciclo nessuno sa che ti mette il cervello in un certo ciclo perché perché se io respiro in un certo ciclo il ritmo il sangue arriverà in un certo ciclo il ritmo al cervello l'ossigeno arriverà in un certo ciclo il ritmo al cervello l'anidità carbonica sarà espulso in un certo ciclo e il ritmo e che succede che il mio cervello il mio corpo avranno un'altra tipologia di ritmo e ciclo e quindi un altro stato di coscienza che sono chiamati poi con i vari nomi degli dei e cose vari significa che si può raggiungere quel piano e nessuno va ad insegnare vi do una piccola chicca che se stai morendo è meglio che trattiene il respiro tanto stai morendo perché se trattiene il respiro ti fermi in un certo punto particolare e quindi è meglio morire trattenendo il respiro che facendo ma come si rimane coscienti di perché da che mondo in mondo che quelle che vanno in guerra hanno viva di morire se vanno fife perché sono drogati come poi si va a vedere direttamente nei documenti sia degli americani in vietnam sia dei tedeschi in guerra si prende una droga no questi con la gente ha paura di morire quando prova a fare il respiro 444 devo per forza tra di due perché mi vengono le vertigini perché non lo fai perfettamente bene non deve venire vertigini ti puoi sentire il corpo caldo di vento vengono un po ma poi devono passare di entrare nello stato di calma deve essere fatto bene con calma e devi vedere anche la profondità e prima di fare esercizi di respirazione perché non fate una buona spirometria andate vedete la vostra situazione polmonare la frequenza di ossigeno nel sangue il vostro i globuli rossi se li trasportano bene o male qual è il carico di ossigeno che ci avete se avete anossia se non avete anossia è meglio saperle perché pericolose metodo e quando vedi libri il libro del pranayama e insegnano queste cose sono da sparare in testa sta gente innanzitutto gli editori che lo pubblicano secondaria cosa i pseudo autori perché un vero maestro di pranayama cioè di scienza del respiro come era anche e come anche nell'ammonia non te lo scrive perché è pericoloso è quello è il mar ossigeno e glover rossi non sono al massimo di non devi trattenere molto a lungo il respiro non hai bisogno di fare un respiro lungo si deve allungare normalmente poi l'altra sciocchezza e tentare di allungare il respiro ma siete pazzi deve essere naturale e quando avviene questo quando il corpo si calma provate a respirare se siete eccitati o se la vostra squadra ha vinto o siete aspettando per fare una cosa provate ad andare calmi cose cambiano provate a farlo che ne so dopo un'azione che vi ha rilassato il respiro si calma naturalmente il respiro è connesso direttamente all'anima e allo stato del corpo sottile lunare la mente stare nel cuore senza respirare mi dà un enorme senso di pace è normale non è che senza respirare perché anche se ti parli di non respirare il respiro minimo attenzione che noi non respiriamo solo respiro pulipore della pelle durante l'aspirazione qualcuno mi diceva di posizionarmi nella pausa ma non ho mai capito veramente cosa volesse dire è certo perché deve essere insegnato certo che non l'hai capito di posizionati nella pausa se ti posizioni nella pausa e la stesso che dire se c'è un pensiero e poi ne vede un altro perché non guardi quello che c'è in mezzo la pausa beh è lo stesso nel respiro il respiro è un modo più se allora c'è una bellissima metafora no per quanto riguarda il respiro immaginate una torre immaginate una principessa che in questa torre e questa è l'anima immaginate che questa principessa vuole essere salvata e sotto c'è il principe lo e guarda sotto ma come fa non c'è niente per il principe per andare su se volete facciamo l'inverso perché magari poi di giudicare per la donna in perico c'è un principe che vuole essere salvato e arriva la principessa a cavallo che lo deve salvare va bene oppure immaginiamo ci sono due persone due maschi due ragazze che si amano vogliono essere salvati o due donne ok siamo tutti pari andiamo torniamo un po indietro c'è questa qua in alto che non sa come fare per essere presa come si fa con la scienza del respiro e qual è la scienza del respiro questa principessa principe o quello che sia c'è un filo di seta perché sta filando la seta che fa getta il filo di seta giù al suo salvatore il salvatore prende il suo figlio di seta e lega un filo di cotone e questo tira su tira su tira su tira su e prende il coso il coso di cotone la principessa rigetta su nuovamente il filo di cotone e questo lega uno spago tira su tira su tira su e prende uno spago prende lo spago e lo butta e ci lega una corda tira su tira su tira su una lega scende e libera questo è la metafora della scienza della respirazione per chi la capisce questo significa sì beh certo la pelle nel secondo polmone quindi voglio dire anche quando pensiamo di non respirare non è vero se volete non respirare con la pelle dove da mettere il latex diventi tutti il latex probabilmente pochi minuti andrete in dei problemi molto seri ok quindi l'ordine aperto le porte sono aperte sezioni internazionali e sezione italiana italiani la sezione italiana perché hanno una conformazione animica in una maniera gli stranieri in altra formazione animica quindi mentali in atta ma che non è che si insegnano queste persone si insegna in maniera diversa si dà la trasmissionata all'altro non se non è che detto insegnamento viene chiamata trasmissione proprio per far capire che è diverso e questo siamo un pochino simili ai azioni tibetani dove non si parla di insegnamento si parla di trasmettere qualcosa c'è trasmissione della conoscenza quindi potete scrivere tranquillamente all'indirizzo che vi viene enormemente messo sia anticus ordo phoenix antips ordo phoenix che ho c'è la porta ormai il punto com è uno di come gli altri no di cosa una cosa se siete troppo moralisti come una persona che venne a milano e che io per scherzo diede una di che va se un maestro ammonio incontra una vecchietta sulle scale e uno gli dice dagli il calcio gliela da e lì sono messo a morire da perché per il maestro ammonio la vecchietta non c'è è andato ma l'ho fatto apposta se siete di questa cosa qua povera vecchietta sono chiaro è posso essere io devo essere deciso così taglio non perdo tempo ragazzi dovete avere chiaro in mente una cosa tutto ciò che vedete non è vero tutto ciò che pensate non è vero però dimostrerò tutto ciò che avete pensato non è vero tutto ciò che vi è stato detto non è vero tutto ciò che avete letto non è vero se siete pronti per un viaggio a vedere quello che è vero e scrivete mettetevi alla prova è stata una cosa molto seria quindi per coloro che hanno già fatto corsi descrivano i corsi che hanno fatto che saranno posti al gradino giusto che corrisponde ai corsi che hanno fatto per coloro che non hanno fatto nulla devono dirlo e quindi vengono messi al primo gradino per poter fare quello che serve tutto sarà accorpato in questo tutto sarà chiuso in questo sarà messo in questo sarete ci sarà un riconoscimento ben preciso ci saranno tutte le cose serie c'è ben precise che devono essere e quindi questo è la possibilità che viene data di poter far parte non sono come un bambino così deve essere deve essere così mettetevi in mente un obiettivo l'unico obiettivo che viene dato no la scienza monia per tutti se lo sto dicendo se tu hai problemi dalle caccia la vecchietta non ci venire non cattivo è ma molto cattivo se invece hai problemi vieni e ti dimostrano che non esiste con la vecchietta ma chi era solo qua dentro ecco perché la scienza monia sta sempre dietro nello sfondo nascosta perché la verità non si può dire a tutti non ne si riesce a reggere non ci si riesce quindi primo obiettivo e quando si entra nella scienza monia quindi nell'ordine ammonio dimostrarvi le vostre incarnazioni precedenti reali due insegnarvi come prepararvele se siete pronti raccogliete la sfida io sono qua l'indirizzo ce l'avete anticus ordo phoenix che ho c'era pronto ma il punto com e scrivete rimane chiaramente chiaro che poi tutte le cose esterne collaterali per colore quando non ci sono sempre seminari cose questi parlo per chi vuole veramente sapere questo io c'ho lottato tanto per aprire questa cosa è veramente tanto domani che ci provo perché il periodo è questo quindi afferrate la rivoluzione ed entrate perché siete interessati veramente a fare le cose per bene attenzione l'ultima cosa non è che nella scienza monico del monio voi imparate solo un tipo di magia o dire no tutte tutte attenzione tutte senza eccezione alcuna quindi pensate che significa tutte perché lo sfondo e la terra da cui poi vari semi nascono sono nate varie piante che sono gli altri ordini lo so che non non sarò simpatico ma di altri ordini ma se nella realtà è questa e questa è che posso di una bugia questa è rendere conto un saluto saluto l'indirizzo è lì le porte sono aperte l'indirizzo è lì quindi qui